Abbiamo una coreografia spettacolare Forse Cavalgere perché è un paese che mi sta nel cuore Ho sposato una donna di Cavalgere Allora, guarda, 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 guarda Allora, guarda, 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 guarda Avvode Li vede un po' incatenati, bravo Nei limiti fanno anche loro quello che possono Sono ben sorvegliati da polizioni e poliziotte ma a noi ci basta anche un piccolo gesto e che contribuisse alla riuscita di questo carnevale per noi è già molto guardate, hanno messo anche le catene al mio sogno l'importante è divertirci e qua mi sembra che a voi quest'anno stiamo veramente esagerando bravi ragazzi costruzione di Campolongo Maggiore della CR dell'asilo e sono veramente tanti ebranti bravo Campolongo siamo qui vicini giovanotti, siamo vicini vicini e uniamoci mattoncino dopo mattoncino per fare una festa meravigliosa e uniamoci anche per prendere gli ultimi biglietti così poi andremo ad estrarre subito la lotteria e vi regaleremo dei premi meravigliosi vedo che tutti quanti hanno una linea eccezionale per i coriandoli dopo non so Paperelli da grandi e da piccini pensate che questo gruppo viene da Bosco di Rubano quindi non tanto da vicino guardate che meraviglia sto carro questa coreografia di Paperini ai Paperini molto veramente molto costruito bene i movimenti i colori è un carro veramente da premiare molto bello signori ma qua non c'è un carro più bello più brutto qua c'è l'impegno di tutti e l'impegno inizia da tanto tanto tempo prima perché prima di fare un carro del genere ci vogliono Paperelli da grandi e da piccini pensate che questo gruppo viene da Bosco di Rubano quindi non tanto da vicino eh guardate che meraviglia sto carro questa coreografia di Paperini ai Paperini molto veramente molto costruito bene i movimenti i colori è un carro veramente da premiare molto bello signori ma qua non c'è un carro più bello più brutto qua c'è l'impegno di tutti e l'impegno inizia da tanto tanto tempo prima perché prima di fare un carro del genere ci vogliono veramente mesi ma secondo me i nostri amici paperopolesi hanno in serbo qualcosa e vedremo secondo me la signora Pala Saluma grazie 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 Allora Grazie a tutti. Grazie a tutti.